Filippo Busin, i dati dell'Ocse danno ancora un giudizio negativo all'economia del nostro paese. Lei come commenta? Siamo gli ultimi della classifica, siamo ancora l'unico paese, l'ultimo paese dell'Ocse a non essere uscito dalla recessione. Siamo in recessione, i dati sono peggiorativi rispetto a quanto previsto dal DEF di aprile, che era di meno 1,4 del PIL, poi è stato peggiorato a 1,7, adesso siamo a 1,9. Per l'anno prossimo è prevista una crescita che non sarà dell'1% come preventivato, ma sarà dello 0,6 o 0,7 al massimo e quindi l'inversione di tendenza per il nostro paese non è ancora iniziata. Servono delle riforme strutturali, quella del federalismo fiscale è una di queste, anzi è la prima che deve essere attuata. Senza una decisione coraggiosa e un'inversione di tendenza netta non usciamo da questa crisi, andiamo nel baratro. E la versione di tendenza che si può fare nel periodo breve, che cos'è? Ma è quello che la Lega suggerisce da tempo, e cioè l'attuazione dei decreti sul federalismo fiscale, che a regime dovrebbero portare un risparmio stimato, quindi un risparmio senza aggiunta di nuove imposte, di 30 miliardi. Sono proprio quella cifra che ci serve per ripartire, per far ripartire il paese. Grazie.